Eletti 18 consiglieri del nuovo consiglio della città metropolitana di Firenze. Le operazioni di voto si sono ottenute domenica 29 settembre nei due seggi di Firenze in Palazzo Medici Riccardi e di Empoli presso la sede del giudice di pace. L'elezione avviene con voto diretto, libero e segreto dei sindaci e dei consiglieri comunali dei comuni che fanno parte della metro città. Voto che ha un peso ponderato calcolato tenendo conto dei rapporti percentuali esistenti tra popolazione residente nell'insieme dei comuni in una determinata fascia e popolazione residente nell'intero territorio metropolitano. Elegibili alla carica sono i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della città metropolitana di Firenze. Vediamo dunque chi sono i consiglieri in ordine di rappresentatività. 12 i consiglieri eletti nella lista Partito Democratico, Benedetto Albanese, Nicola Armentano, Brenda Barnini, Patrizia Bonanni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Massimo Fratini, Monica Marini, Letizia Perini, Tommaso Triberti e Lorenzo Zambini. 4 gli eletti della lista centrodestra per il cambiamento Alessandro Scipioni, Claudio Gemelli, Paolo Gandola e Filippo Lagrassa. Per la lista città metropolitana territori beni comuni entrano in consiglio Enrico Carpini e Lorenzo Falchi.